Che me ne frega a me delle quattrine? Me le vuoi sfrusciare e ne pensare niente. Che dopo morte, botte e appartamenti me le sbatte e carrete. La mattina me le vuoi godeviatamente allo caffè. Brioche, cappuccino e giornale sopra lo tavolino. Cosse in gruciuna a fa schiatta la gente. Così dopo magna. Bastone, cane, mondo e balla lo corso. Accompagnata a chi me pare piace. Quando è vero Cristo, non è se non ci stesse né domani né altro appresso. Capra giornata. Ma dopo, chi si è cise? Vela sera. Grazie a tutti.